Non arrendetevi, non arrendetevi mai, specialmente per le cose in cui credete e che per voi hanno valore. Se siete gli unici a vedere un obiettivo, non vuol dire che esso non esista. Lottate e non smettete di amare, anche se vi sembra sbagliato, ingiusto o contorto. Non privatevi dell'amore che meritate, perché credete di non esserne degni. Perché il giorno finisce e porta con sé la malinconia delle cose non fatte, degli abbracci mancati e dei baci non dati. L'amore ha diverse facce e quando si è giovani i tormenti dell'anima sono naturali. Chiara ha solo 21 anni e si trova davanti un bivio, o meglio, tra due storie d'amore. Una consolidata, messa però in discussione dal primo amore, incontrato casualmente che fa crollare però ogni certezza. E allora dovrà decidere se guardarsi indietro oppure andare avanti. Un'ultima possibilità è il primo romanzo di Chiara Boscaglia, studentessa gelese di 21 anni. Noi l'abbiamo incontrata per farci raccontare com'è nata questa sua prima opera. Questo romanzo nasce per necessità. Ricordo che ero in aereo, stavo avendo uno dei miei attacchi di panico e dal nulla ho detto devo fare qualcosa per calmarmi. L'unica cosa che sono stata in grado di fare è stato scrivere. Ho preso infatti il telefono e sulle note ho iniziato a scrivere pensieri, parole, emozioni, tutto. Perché per me tutto ciò che si può guardare, toccare, sentire è oggetto di scrittura. Quindi ho iniziato a scrivere, scrivere, scrivere. E all'inizio non pensavo potesse mai diventare un romanzo, era l'ultimo dei miei pensieri. E invece col passare del tempo, degli anni, perché poi sono passati già due anni, è diventato un romanzo. Però all'inizio non pensavo proprio. Chiara Boscaglia è studentessa di economia e finanza, ma la passione per la scrittura la segue da sempre. E in preparazione c'è il secondo romanzo. La protagonista si chiama Chiara, ha 22 anni e studia a Milano, studia e lavora. Non è fidanzata, si è lasciata da parecchi anni col suo primo fidanzato, Omar. E durante una vacanza a Roma con le amiche incontra Luca, che è il principe azzurro, il ragazzo che tutte vorrebbero. E diciamo inizia una conoscenza con lui. Solo che quando ritorna a Milano, rincontra dopo anni il suo primo amore. Quindi diciamo che è indecisa, non sa cosa fare. Si ritroverà tra questi due fuochi. Non sa se tornare indietro e ritornare dal suo primo amore, oppure guardare avanti e iniziare una nuova vita con Luca. Non ricordategli però che è la figlia di un'eccellenza gelese, l'allenatore Roberto Boscaglia. Ma Chiara sicuramente ci perdonerà se lo sottolineiamo lo stesso. Io continuerò a scrivere perché è quello che mi piace, è la mia passione da sempre, da quando sono piccola. Sto per finire il secondo romanzo, che non è un sequel ma è un altro romanzo. Io vorrei che arrivasse il messaggio di credere nei propri sogni, nelle proprie passioni. Io studio economia e finanza, quindi non c'entra proprio nulla con lo scrivere un romanzo. Però era una mia passione, una cosa che ho sempre avuto dentro. Quindi vorrei che anche gli altri, per qualsiasi motivo, iniziassero a coltivare le proprie passioni. Io l'ho fatto per esigenza, perché ne avevo proprio bisogno. Quindi spero che possa arrivare questo messaggio. Non volevo scrivere un libro per diventare famosa o essere conosciuta, era l'ultimo dei miei pensieri. Però proprio perché ne avevo bisogno. Quindi vorrei che arrivasse questo messaggio.